A 240 in campagna i candidati democratici inseriti nelle liste elettorali a sostegno di Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati. 81 i posti disponibili in campagna, di cui 17 a Salerno. Proprio a Salerno si presenta l'appuntamento elettorale tra inevitabili polemiche che hanno scandito questa vigilia, così come è accaduto a livello nazionale. Urni aperte dalle 8 fino alle 20 possono votare gli iscritti al partito, ma anche i semplici cittadini pagando 2 euro. A Salerno città e in particolare in ogni quartiere presenti sezioni di voto. Ampia copertura sull'intero territorio provinciale, sull'efficacia del sistema delle primarie. Intanto è intervenuto ieri il sindaco di Verona, il leghista Flavio Tosi, giunto in città per partecipare ad un incontro dibattito sul futuro del centrodestra promosso da azione liberale. Le primarie dovrebbero essere libere, non fatte per iscritti oppure per chi aderisce a un manifesto politico. Libere, uno può partecipare, dovrebbero essersi le primarie da una parte e dell'altra. Dove i cittadini scelgono liberamente chi votare, ovvio che non partecipi a tutte e due, partecipi a una delle due, ma voti chi ti pare liberamente. In questo modo si eviterebbero tessere, brogli, regole strane, perché sarebbero liberi. Lo stesso Tosi infine ha espresso il proprio parere in merito alla vicenda della mancata attribuzione delle deleghe al sindaco di Salerno e vice ministro alle infrastrutture, Vincenzo De Luca. Lei si trova nella città di De Luca, De Luca ha avuto sempre buone parole per lei, come lei è stato sempre molto attento su quanto ha fatto il sindaco di Salerno. Ma su questo doppio incarico lei che ne pensa? Io fra l'altro l'ho anche salutato prima perché giustamente tra colleghi e credo che lui abbia vinto e rivinto a Salerno perché evidentemente i cittadini l'hanno scelto. Sulla questione del doppio incarico credo che il problema di fondo sia quello, da quello che ho avuto modo di capire, dell'attribuzione delle deleghe, perché credo di aver capito che lui è vice ministro sostanzialmente senza alcuna delega. E quindi si aspetta, e questo credo sia anche piuttosto normale, che il vice ministro abbia un ruolo perché altrimenti fa il vice ministro a nulla. Allora immagino che nel momento in cui non sarà più il vice ministro a nulla, allora il problema del doppio incarico se lo porrà anche lui. Credo che se questa sia una cosa seria, capisco, ripeto, la sua posizione perché in questo momento gli hanno detto tu sei il vice ministro e non fai niente.